Un film per bambini nel vero senso della parola. Lo spagnolo Le avventure di Fiocco di Neve non possiede la maturità e l'intelligenza dei lungometraggi animati Pixar, né il gusto citazionista di casa Dreamworks o la profondità delle pellicole di Ayao Miyazaki. Ma, semplice e immediato, ricorda lo spirito avventuroso dei film Disney anni Ottanta. Le avventure di Fiocco di Neve è ambientato nella Barcellona del 1966 e l'atmosfera minimal che si respira nella pellicola è funzionale a ricreare il clima di un'epoca, quella in cui il vero copito De Nieve venne ospitato con tutti gli onori nello zoo della città catalana dopo essere stato acquistato da un cacciatore che lo aveva catturato nella Guinea Equatoriale. Vuoi essere preso in giro? Voglio essere un gorilla come tutti gli altri! E' una miniera d'oro! E' l'unico gorilla bianco al mondo! La trama segue l'andamento di una fiaba moderna. Tra gli ingredienti spiccano il protagonista peloso e la sua compagna umana, la figlia del direttore dello zoo, un nemico spinto da propositi sanguinari ma di fatto innocuo e pasticcione e una strega buona e bella. Se l'obiettivo del film è quello di colpire al cuore il pubblico celebrando una delle icone della capitale catalana per quasi 40 anni, ci riesce alla perfezione. Forse lo sapranno apprezzare anche quegli adulti che in fondo un po' bambini lo sono rimasti e che riescono ancora a commuoversi di fronte ai buoni sentimenti.